Un bimbo di tre anni in pigiama, scalzo in piena notte, pagava per le strade del suo paese, mentre la madre, ignara che il figlio fosse uscito, stava tranquillamente dormendo. È successo la scorsa notte a Russi, nel Ravennate, dove una pattuglia di carabinieri in servizio di perlustrazione al territorio a un certo punto si è imbattuta nel bimbo che camminava tutto solo. Dopo averlo rifacillato, i militari, grazie a qualche domanda, hanno realizzato da dove fosse arrivato. E così sono andati alla casa e hanno suonato il campanello. La madre a quel punto è rimasta sotto shock, convinta di aver messo il piccolo a letto e che lì ancora si trovasse. Il bambino evidentemente si deve essere svegliato all'improvviso. Non avendo trovato la compagnia della madre, che dormiva in un'altra stanza, l'ha cercata in vano per casa. Poi è andato al portone, che complice un malfunzionamento, si è spalancato lasciandolo in strada. Il cattivo funzionamento della porta, verificato dagli stessi militari, dovrebbe evitare eventuali ripercussioni penali alla madre.